la quota di Salice Jet 1,71 macchina a poco più di 150 metri dal punto dello stacco si ritrae il numero 4 Sing Firm perfetto l'allineamento Scarlett Griff prova a contenere Savelle Spinelli RS operazione riuscita in 100 metri poi Spiriti Fox che scavalca Spartacus PDL Salice Jet che con prudenza ha preso il lancio e a chiudere Sing Firm 14,3 i primi 200 metri con l'errore di Spartacus PDL e le retrovie Salice Jet che gradualmente inizia la risalita 30,5 i primi 4,16 impiegata tabellone Spartacus PDL davanti alle tribune Scarlett Griff in evidenza nei confronti Spinelli RS risale a largo Salice Jet i primi 600 metri in 45,14 e 6 la frazione Salice che va dritto a Scarlett Griff che richiesta per rispondere all'avversario che si tiene però abbastanza discosso dalla seconda corsia peggiora di meccanica e si getta di galoppo dopo 800 metri veloci in 59,9 Spartacus PDL squalificato e rinnova l'errore comunque a largo c'è Spiriti Fox che affianca Spinelli RS il chilometro lanciato di Scarlett Griff in poco più di 1,16 parziali decisamente un po' da rivedere con Scarlett in evidenza prova la rivalza su Spinelli RS di dentro va Savella poi Singferm e Salice Get che però è a tabellone ancora 16,3,32 e mezzo il terzo quarto addirittura un parziale davvero lento che permette allo squalificato Salice Get di riprendere il contatto in seconda posizione comunque Spinelli RS poi Savella e Spiriti Fox quando si entra in dirittura Scarlett Griff che prova ad allungare prende un netto margine di vantaggio a Spinelli RS a centro pista c'è Singferm, Scarlett Griff che porta a casa la vittoria mentre per quanto riguarda il secondo posto Singferm probabilmente piega Spinelli RS 2,4 e mezzo, 31,8 gli ultimi quattro parziali al contrario ma questo è servito a Scarlett Griff per portare a casa la vittoria oltre alla rottura di Salice Get che è arrivato paradossalmente ancora avanti a tutti la quota al totalizzatore di Scarlett Griff 2,77 e insediolo Giuseppe De Filippis i colori della scuderia Salvatore De Luca e sicuro Federica il training di Salvatore De Luca secondo termine a Singferm terzo Spinelli RS è Grazie a tutti.